Buongiorno sposini e benvenuti su Nozzeggiando. Io sono Sara e non mi sembra vero di essere di nuovo davanti a una telecamera. Sono di nuovo qui per creare dei tutorial di nozze per voi. Finalmente, insomma, c'è chi dirà, insomma, alla buon'ora. È da un po' di tempo che non ci vediamo, ma se questo video andrà online vuol dire che avrò già iniziato a registrare i tutorial per quest'anno. Ho già una programmazione pronta con dei nuovi contenuti che spero possano interessarvi e sì, sicuramente se vedete questo video ci saranno già i video per l'autunno, per l'inverno, per la primavera, circa fino a giugno. La programmazione non sarà super densa, ma ogni mese ci saranno dei nuovi contenuti e se avrò modo magari cercherò anche di integrare qualcosa in base alle vostre richieste. Quindi, se avete qualche domanda, qualche necessità particolare, qualche idea che vi viene in mente, magari lasciatemi un commento qui sotto così io poi li leggerò e potrò utilizzarli magari per creare qualche nuovo video o utilizzarli nei video in cui ci sono le domande e le risposte, insomma, per chiarire magari qualche dubbio. Sono contenta e emozionata, mi fa veramente strano registrare di nuovo dei tutorial, mettere i fari, mettere la telecamera, però è una cosa che mi piace, mi è sempre piaciuta. E adesso sono riuscita finalmente a riprendere. Spero che faccia piacere anche a voi, ne approfitto per mandare un grosso saluto e un abbraccio a tutte le persone che comunque hanno continuato a seguirmi, anche se ero un po' latitante, hanno continuato a mandarmi i messaggi e veramente mi ha fatto commuovere l'affetto che mi è stato dimostrato. Ma adesso evitiamo lacrimucce in video e ci vediamo prestissimo con il primo nuovo tutorial. Ciao!